Sono sei medici destinatari di un avviso di garanzia per la morte del giornalista nisseno Lino Lacagnina, deceduto all'età di 74 anni, a margine di un intervento programmato per la riparazione della orta addominale. Sono indagati tre chirurghi, due anestesiste e un radiologo. In questa fase si tratta di un atto dovuto, dopo la querela di parte presentata dalla famiglia del giornalista. La procura ha aperto un fascicolo fissando la data dell'atopsia per il prossimo 7 marzo. La famiglia di Lacagnina chiede di capire se il decesso si sarebbe potuto evitare. Secondo la versione dei familiari, l'intervento sarebbe dovuto durare poche ore, mentre si sarebbe prolungato più a lungo, in tutto nove ore. L'intervento, sempre secondo quanto sostenuto dalla famiglia, sarebbe stato realizzato con una nuova tecnica consigliata dai medici. Ora, con l'esame dell'autopsia, si potrà fare chiarezza e capire, come chiedono i familiari, se l'intervento sia stato eseguito correttamente. Grazie. Grazie.